Sabato 5 marzo, nel pomeriggio, nell'Orto degli Aghi di Assisi, si è aperta, con un minuto di silenzio e raccoglimento, l'iniziativa Donne in Convivio. Le donne imprenditrici dell'Umbria si incontrano, che ha voluto celebrare il contributo che le donne hanno saputo proporre per lo sviluppo dell'economia sostenibile e della pace. L'appuntamento, promosso in collaborazione con Coldiretti, Donne in Presa Umbria e con il patrocinio del Comune di Assisi, della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra Gualdotadino e dell'Accademia Appunto Assisi, si inserisce nel quadro delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna. All'incontro, dopo i saluti di Giampiero Italiani, animatore dell'Orto degli Aghi, sono intervenuti Marusca Tomassini, coordinatrice regionale Donne in Presa Umbria, Rosalba Cappelletti, responsabile Donne in Presa Coldiretti Umbria, con una relazione dal titolo Essere donne e fare impresa, e Dino Renato Nardelli, che ha parlato della memoria dell'Orto degli Aghi. Per l'occasione è stata inaugurata la mostra Testimonianze di Operosità, che raccoglie opere tessili pregiate delle ricamatrici della città francescana, che sono state illustrate da Tiziana Borsellini, presidente dell'Accademia del Punto Assisi.